Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui ore 13.30 come sempre per parlare insieme di fantacalcio e come di consueto oggi andiamo a vedere le due top 11 iniziando da quella delle certezze e poi andremo a vedere come sempre quella degli underdog prima di continuare però mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like, è gratis ma serve veramente tantissimo appunto a far crescere questo canale e vi ricordo poi che oggi pomeriggio alle 14.30 sarò in live sulla piattaforma Viola, canale Il Profeta Twitch per tutti i consigli di formazione e poi la stessa cosa qui su Youtube alle ore 15.30 sempre in live, mi raccomando se volete passare vi aspetto molto molto volentieri Andiamo a vedere la top 11 delle certezze, in porta vado a schierare Magnan, si deve riscattare dopo la brutta prestazione dell'ultima giornata la partita contro l'Udinese delle 18.45 di oggi potrebbe essere un'ottima occasione Dumfries nell'Inter ormai è una garanzia da schierare assolutamente sempre, dovrebbe tra le altre cose partire titolare contro il Genoa Singo merita una promozione tra le certezze, è uno degli underdog più riusciti di quest'anno e quindi diamogli un posto nella top 11 delle certezze certi che anche contro il Cagliari potrà fare bene e poi Quadrado, il bug della difesa dovrebbe giocare titolare nel tridente offensivo o comunque in fase avanzata assolutamente da schierare, il brutto voto difficile che arrivi magari non arriverà al bonus ma lui è uno dei difensori che ha più possibilità di portarvi bonus quindi a parer mio in una top 11 come questa va sempre schierato passiamo al centrocampo, Zaniolo, Malinoski, Milinkovic, Savic e Zelinski Zelinski e Milinkovic, Savic giocheranno contro i big match spesso sono lo scenario, il palcoscenico preferito del sergente assolutamente da schierare, giocatore continuo che difficilmente tradisce la Lazio dietro soffre gli inserimenti dei centrocampisti Zelinski è un maestro in questo e quindi andiamo a schierare lui Malinoski ha mille motivi per fare bene lo ha già fatto in Coppa ancora prima che facesse bene in Coppa io avevo già l'idea di mettervi Malinoski in questa top 11 ci sono dei momenti in cui le motivazioni extra calcio superano quelle in campo, per me il giocatore è assolutamente da schierare Zaniolo, Roma, torna nelle ultime partite in cui aveva giocato era stato uno dei migliori della sua squadra ora deve dimostrarlo anche però lasciando traccia con i bonus arriviamo al tridente Berardi, la garanzia da doppia doppia assolutamente da schierare Dusan Vlaovic che potrebbe tornare al gol anche in campionato e Abram che contro lo Spezia può anche lui lasciare il segno la Roma ha recuperato un po' di infortunati quindi mi aspetto una partita vivace con una Roma che davanti qualcosa di importante lo potrà sicuramente creare e adesso andiamo a vedere la top 11 degli underdog eccola qua, top 11 underdog in porta riproponiamo Vania Milinkovic Savic questa è la partita delle verità per capire se possiamo fidarci ancora della difesa del Torino o se invece quella solidità difensiva sia del portiere sia della difesa granata sia andata un po' a perdere per sempre quest'anno in difesa andiamo a proporre Faraoni Molina e Bellanova Bellanova del Cagliari giocatore che sta continuando a crescere assolutamente da schierare magari non è ancora un giocatore dal bonus costante ma è sicuramente un giocatore che può fare bene Molina dell'Udinese già l'ultima partita ci ha fatto vedere le sue doti ci ha confermato le sue doti una traversa quasi in crocio pazzesco dalla sua parte c'è Teo Hernandez quindi se da un lato potrà subire allo stesso tempo Teo come sappiamo qualche spazio dietro lo lascia sempre e quindi andiamo a provarlo sapendo che è un azzardo sapendo che il voto brutto può arrivare ma può arrivare anche il bonus consigliatissimo nelle difese senza modificatore e poi Faraoni il Verona in casa ma anche fuori casa segna sempre tanto lui è un esterno ma è listato difensore altro mini bug proviamo a sfruttarlo a centrocampo Verdi contro il suo ex Bologna anche lui potrebbe fare il gol dell'ex ultimamente ha già fatto molto bene la Salernitana è diventata una squadra che subisce ma crea anche tanto quindi si possono iniziare a schierare anche dei giocatori offensivi della Salernitana che sì nel Milan è vero lui quest'anno partiva da top ma durante l'anno è stato spesso sottovalutato anche giustamente per via delle sue prestazioni qui lo vado a inserire un po' negli underdog in attesa che si possa riconfermare ricordiamoci che comunque è il rigorista del Milan qualche gol su azione lo ha anche fatto quest'anno quindi andiamo a proporlo in mezzo al campo negli underdog Orsolini altro rigorista l'ultima partita ha visto protagonista Arnautovic chissà che questa volta il protagonista non possa diventare lui e poi Pobega Juric in questo momento sembra dargli fiducia non so quanto durerà per il discorso contrattuale ma in questo momento sfruttiamo questa cosa dovrebbe giocare nuovamente sulla tre quarti e quindi andiamo anche qui a riproporre Pobega Tridente di underdog con Giroud che nel Milan in casa è assolutamente una sentenza poche volte ha tradito fin qui mi ricordo ad esempio la partita contro la Samp dove però solamente un grandissimo Falcone gli negò la gioia del gol su quella semi rovesciata spettacolare quindi contro l'Udinese assolutamente Giroud da schierare il Gallo Belotti è tornato a cantare la scorsa giornata chissà che in questa giornata da rigorista, da titolare in casa contro il Cagliari non possa cantare nuovamente e poi andiamo a chiudere con Verde dello Spezia contro la Roma già in passato ha fatto bene questa ovviamente è la scommessa più rischiosa che vado a consigliarvi insieme a Bellanova forse in questo top 11 degli underdog avrei potuto farvi anche nomi un po' più banali a livello di attaccanti underdog però proviamo la scommessa verde che fin qui ha rispettato le aspettative e anzi le ha anche superate ragazzi questa era la top 11 degli underdog fatemi sapere che cosa ne pensate siete d'accordo, non siete d'accordo avreste messo qualcuno di diverso siete d'accordo con questi nomi avete qualcuno di questi li avete contro scrivetemelo nei commenti io vi ricordo che ci vediamo oggi alle 15.30 qui in live su YouTube dubbi di formazione consigli su chi schierare in questa 27esima giornata per chi vuole seguirmi anche sulla piattaforma viola ci vediamo alle 14.30 sul canale Il Profeta Twitch e vi ricordo anche di seguirmi su Instagram pagina The Real Profeta dove troverete queste grafiche e tante altre dedicate alla 27esima giornata e non solo ma anche a tanti contenuti sempre ovviamente a tema fantacalcio grazie mille ragazzi io vi auguro una buona giornata ci vediamo dopo in live o ci vediamo al prossimo video grazie mille ciao a tutti e alla prossima ciao